Ermano adesso hai il rectifier in bocca come come ti senti sento di aver più controllo e spinta sicuramente ti senti anche magari non so una maggiore stabilità no durante la durante l'esecuzione dell'esercizio levati il rectifier ma senti credibile si riequilibra tutto istantaneamente e quindi non compensi non è dico una cosa con il rectifier durante il tuo allenamento in palestra tu potrai avere un incremento incredibile è come se abbandonassi una situazione di stallo abbandoni una situazione di stallo che magari fai fatica ad andare oltre un certo livello adesso finalmente ti faccio vedere guadagnerai subito sì assolutamente assolutamente fammi sapere